ciao a tutti ecco il terzo video di registriamo solo stasera ci sono pure io ovviamente perché che parte c'è disponibile ovviamente deve farmi da persona contro gli spaventi si anche da abbiamo fatto che immuovere ancora c'è la schermata di prima quindi facciamo col continuo siamo risultato nella stessa sera allora non si può non fare anche se eravamo fra te lo tre rosa perché sono un sentimento allora chiamo preso la rinitivo alla tipo di rottopolo mamma amonazzo la fosse cadaveri si trovo solo non so se non si è un senso bambola io ero non ha visto per acqua albisotto nel mondo alla 18 per 9 si fa è calcolatrice forse aspettate no no ce l'ho qua la metto qua così 18 per 9 è anti-scamo vergogna all'attualità sapevo farti tutto 18 per 9 io non lo so fare scusatemi dove sta il per dove è il per questo è il per ok riproviamo il per è l'unico che manca perché mi odia no? dov'è il per? infatti guarda se devo fare la figura della stupida comunque no 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 vedo neanch'io cioè io dovrei fare le superiori è 166 è gaia la vecchiaia che si sente si infatti dall'alto dei miei tocchi di anni che non potrò regolare perché non c'è stato un suono però io salverei se non va che tipo wow sappiamo qua ovviamente sei una salvofila allora perché comunque a me piace sprecare i file siamo siamo attraverso tutto quanto cos'è allora una mera su una scultura d'albero ottenuta la mera di legno io boh ah la bocca che ha fame che bello si 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 però di legno io non la mangiare di legno si in effetti come ha detto quando me l'ha nata da un albero mi sentisse diciamo si infatti fare fantasie non in mare vabbè fai tipo la nascita del frutto della speranza qualcosa che faccia un po' di infetto boh non lo so io ehm no non la diamo la mia cosa eh così si fa gioppare che è proprio un timoroso questo buono cosa ora ti faccio postare vabbè forse l'Ucraina situazioni per riferire non siamo razzisti cioè un mio amico ok è una storia lunga la spiegheremo in un altro video ok ok no no lo spiego ora allora praticamente mi salvo però sono qua per per la vita c'è un mio amico che è ucraino e praticamente ucraino e praticamente quando è venuto in Italia non sapeva parlare praticamente tutti gli parlavano tu parlare italiano esatto eh adesso secondo me è un caso si scusate ah volevi allora e tutti gli parlavano tipo comunque tu parlare italiano esatto io tipo una volta mi sono cazzata tantissimo tipo non mi parlate come se fossero stupido e niente spero che se lo ricordi perché no sapete quando mi è piaciuta questa cosa adesso fa tutto cosa quello respiro perché non mi è piaciuta ragazzini ragazzini un salvataggio ma è per caso un salvataggio 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 ma qual è la stessa stazione che c'era su qua 1 la stessa scuola è stato anche c'era su qua solo modello di modello di il santo almeno siamo ritornati al vecchio non conosci questo il genere di tornare ufa gua io non allora vai quello blu sì però mi c'è c'è cosa perché è di sangue però che è stato dove dove mi ha chiesto è rossa non puoi vedere il santo fai dal fuori ma è questo è vero superfondo no 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 che cazzo no 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 scherzi scherzi are you scared singer ok ehm non ti lascia a fare la cazzo di bandiere c'è il 12 proprio uno spreco di cose sì infatti che gli probabilmente arriva a me io lo piace anche così non è vero mi piace tantissimo non posso dire sì però la cosa brutta è che è fatta male senti paola mi apprezzo gli RPG che li adoro sì anche a me piace un casino però quelli quando cercavo di allungare la gente per farle sembrare non puoi dire che questo si è fatto male no è che tipo vedi tipo è bellissimo no è che non mi piace mi piace quando la gente piccoli a tipo mi sono da bambino tutti quanti negli RPG che sono così carini io sono allora è nell'inventario vediamo cosa è un fuzzoletto bianco con una madre di secondo me ci sarà utile perché si forse a fine gioco tipo ah ah però solo 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 per la testa vera infatti un'attività forse mi era un paio di plastica ma io forno non ci sono una macchia bassa ci sono io gaia che ti proteggo dagli spiriti maligni non sono però non mi ha detto si non c'è speranza comunque quella cosa della gigliottina era seriamente una cosa cercavo di fregarmi con questa cosa io ho visto troppi gameplay troppi giochi di oro per fregarmi si a proposito quando è che continuerai i gameplay di Gordesbardi che ho non te lo viste secondo me non è che ho visto il primo video ho visto qua eccolo dovevo ciao ne come puttano ma mi vedi eh guarda te tanti cose in comune con la mia cara posso dire no no ok ho già detto 50 volte vabbè ok con la mia cara sorella ad esempio anche a lei piace rosso anche a lei piace tanto rosso ho paura ma che basta sfuggire fai come se ci ah è vero quella cosa di se ci potevo risolta io apre una volta si però non direi cosa perché ancora non ho fatto quel pezzo non mi pensavo ecco lo sapevo io troia 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 è donneroso che razze merda ah allora c'è qualcosa per te intanto ok tu scappa eh Gaia è la best dove sei arrivata con Gordesbardi di regiso sono davvero occupato suppongo sorry book animato scritto e disegnato da x6 carri la sbadata e la galette de roi ho tirato fuori il mio accento quello francese proprio da il tuo accento è un libro di Fabri disegnato con passare le leggi ovviamente perché non andiamo avanti con la vita guardate guardate le fiabbe c'è una volta una fin carri e la sbadata la galette de roi di di roi buon compleanno grazie ragazzi per il tuo giorno speciale abbiamo fatto una galette de roi che cos'è roi c'è una monetina dentro la monetina sarà una persona felice sembra divertente eh già ok dividiamola prendete la fetta che volete mangiamo vabbè io miam miam ah che c'è credo di aver more ingoiato qualcosa di loro in more ah ok deve essere stata la monetina secondo me una limetta è tutto ok la monetina è piccola piccola vabbè adesso vogliamo tutto si siete leggeri ragazzi cosa c'è mamma è morta hai visto la chiave dello studio dello studio è sempre qui su questo tavolo è la monetina la monetina che avrei dovuto è la limetta oddio no perché si è bloccato siamo matti mettere nella tua oddio è la limetta c'è tipo un'animetta che è morta oh il mio caro si arrebberà così tanto che devo fare non lo so neanche io è caduto il telefono pare che io sia sbagliata quanto Gary sì infatti ho trovato la chiave adesso apre la porta c'è stato un suono eh Gary sei sicura di vorrei fare carri io asporto l'isola cittazioni a autori ai film alle cose c'è un pezzetto di carta tra due libri ti diverti? sì mi diverto è un casino prendiamo la coca cola e facciamo cose è pieno di disegni fatti da Gertena dai vediamoli comunque questo gioco mi sta facendo tirare fuori tutta la mia vena linguistica qua Paola grazie le donne che diventano molto quando a desiderare umani inseguiranno cose fino a quando sono soddisfatte sembra dovunque dappertutto fino ai confini della terra ma se non ha debolezza è quella di non poter aprire porte da sole cosa? le donne non possono aprire porte da sole cosa? non comincia si è si è si è se potessi sfondere una porta a caccia insomma si però aprirla ok no non posso salvare non posso ok benissime ok salviamo vai lì alla fiammetta che vabbè invasano d'acqua metti rosa ovviamente si 5 no 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 diamo diamo tantissimo ok ritroviamo forse è una roba tipo link che quando prendi quando vai avanti la rosa diventa sempre più bella e ti dà più energia capito non facciamo stiamo facendo giudizioni ai giochi è del legale certo che è legale non so capirà niente tu alla rosa siete tre punti interrogativi conoscere il peso della tua vita non conosci questa parola sa quale per fine del tempo quindi io vorrei dire non lo so quando la rosa ok lo sappiamo non conosci la parola secondo me tipo la prima elementare questa perché no ma perché allora questo è tradotto da giapponese la donna in blu scappa aspetta la donna in rossa è quella la testa no vabbè tanto mi devo andare devo cioè dobbiamo finire i petoni rossi allora aspetta forse la donna in blu inizia in seguito dopo che sia uscita può essere comunque non ho ancora inizio risalvo e dall'altra parte si assicura risalvo qua non ho fatto niente ma salvo il nostro file giustamente ho fatto la tipo a salare nell'angolo tranquillo allora finiamo anche qua questo episodio ne facciamo un altro va bene se lo dici tu allora così canicchiamo tutti insieme per far venire il mal di testa ai tuoi iscritti si allora comunque questo episodio non so quanto cioè è sempre durato verso i 15 minuti durando sempre verso i 15 minuti perché praticamente c'è questo sistema di salvataggio che non è proprio fantastico infatti anche se vedete i video più lunghi di 15 minuti c'è un taglio a metà e a quello di 15 minuti appunto e ok vabbè non fa niente comunque sì perché siamo le brutte persone noi esatto e continuo questa serie perché mi sta piacendo un botto anche se ho troppa paura e questo tranquilla che ci sono io ti torno a progetto madonna sei morbidissima madonna un'assicurazione proprio di quelle ci saranno credo un altro paio di episodi come sorella e poi basta perché 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 è tardi perché è tardi tu non puoi fare queste cose comunque ma io ti amo tanto ok al prossimo video ciao